Una situazione sempre più preoccupante è quella degli incidenti sul lavoro che emerge nell'ultimo periodo sul nostro territorio. Nel solo mese di agosto sono stati infatti tre, un numero inaccettabile che necessariamente impone di aprire un dibattito sulla questione sicurezza. E mentre si attende che ATS Valpadana e Ispettorato Nazionale del Lavoro facciano le opportune verifiche per capire la dinamica dell'ultimo incidente, si guarda con apprezzione ai dati che riguardano Regione Lombardia, dove da gennaio scorso hanno superato le 80 unità i casi di incidente con un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'obiettivo deve essere la tutela dei lavoratori del loro diritto a un lavoro sicuro nella consapevolezza che non si possa continuare a morire di lavoro e che anche solo un incidente debba considerarsi come una sconfitta per tutta la società. È il messaggio che arriva dai sindacati. Uno dei numeri più allarmanti nella nostra regione è proprio quello relativo agli incidenti mortali, peraltro che sono aumentati da 69,72 casi nei primi sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una situazione che sta diventando intollerabile se non addirittura indegna per un paese civile. I sindacati chiedono dunque con forza le istituzioni che provvedono con la massima urgenza all'investimento di adeguate risorse per la diffusione della cultura della sicurezza, anche perché nell'ultimo rapporto presentato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro risulta che il numero delle ispezioni effettuate in azienda è diminuito del 9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Un'attenzione dunque ad una problematica tanto delicata che invece di aumentare come dovrebbe sembrerebbe andare nella direzione opposta.